grazie cristiano buongiorno di nuovo a tutti grazie per questo invito è sempre un piacere scambiare esperienze ed io vi racconto molto velocemente c'è l'esperienza che abbiamo fatto con il gal costa dei trabocchi che è un gal nuovo un gal nuovo partito nell'ultimo periodo periodo nel quale nella nostra regione che è l'abruzzo i gal sono partiti tutti molto tardi cioè sono stati messi in condizione di attuare il loro piano di sviluppo locale piuttosto in ritardo per cui di fatto l'attività che vi racconto è partita diciamo a metà del 2019 il nostro utilizzo mi aiuto con una presentazione per contestualizzare anche queste esperienze e raccontarvi i servizi che abbiamo attivato allora eh il nostro territorio come dice il suo il nome del gal costa dei trabocchi è un territorio costiero e si trova nella provincia praticamente racchiude tutta la fascia costiera della provincia di Chieti a ridosso della quale ci sono delle colline a fortissima vocazione vitivinicola e il nostro progetto eh nasce da un evento che si è verificato nel nostro territorio il nostro progetto è un progetto orientato al turismo e eh il turismo di questo territorio naturalmente è un turismo balneare però di tipo molto tradizionale eh che non si è mai sviluppato tantissimo anche perché la caratteristica di questa costa è che per almeno il 60% era per percorsa molto vicino al mare sia dalla nazionale e dalla strada statale adriatica e soprattutto dalla ferrovia adriatica che rappresentava un po' la barriera in molti tratti per l'accesso alla costa come vedete da queste foto che mostrano ecco un paese tipicamente balneare questo è Francavilla al mare un altro un po' meno sviluppato qua siamo più a sud e poi il tracciato ferroviario per far vedere quanto passava vicino alla costa in moltissimi tratti l'evento che si è verificato invece all'inizio del duemila diciamo intorno al duemila e dieci è stata questa questo investimento promosso dalla provincia di Chieti per utilizzare il sedime del tracciato ferroviario che nel frattempo era stato arretrato dalle ferrovie dello Stato costruendo delle grandi gallerie ecco per utilizzare il sedime per farne una pista ciclabile ciclopedonale di cui vedete qua un'immagine e capite bene che questo intervento un intervento che ha cambiato molto il volto del territorio perché di fatto ha reso accessibili i larghi tratti di costa che non erano assolutamente accessibili ma li ha resi accessibili tra l'altro in un modo molto attivo molto piacevole perché è una strada dove le macchine non possono passare e eh di conseguenza è molto aperta per chi vuole passeggiare o andare in bici il nostro gruppo di azione locale è nato con quest'idea cioè quella di aiutare il territorio accogliere al meglio le opportunità che venivano da questa nuova infrastruttura che è veramente nuova perché per capirci il cantiere di realizzazione di questa pista ciclopedonale che è frequentato ormai da più di tre anni però formalmente non è ancora chiuso perché voi sapete come funziona l'Italia molte volte i cantieri e gli interventi pubblici prendono parecchio tempo noi quindi abbiamo lavorato su questo e abbiamo lavorato con l'idea soprattutto di sviluppare nel nostro territorio una destinazione cicloturistica pensando che ehm il cicloturismo e il turismo attivo sono dei settori in grandissima crescita ma soprattutto per il nostro territorio sono importanti perché eh consentono di lavorare su stagioni molto lunghe mentre invece il nostro turismo è caratterizzato da una forte concentrazione nei mesi estivi e e tal'altro attualmente con la diffusione larghissima delle e-bike anche il nostro territorio che subito dietro la costa è fatto di colline anche con alcune salite diciamo impegnative è diventato invece un territorio vocato per il cicloturismo scusate vado un po' veloce con queste premesse e mh qua ci sono alcuni dati su cosa significa eh lo sviluppo del turismo attivo del cicloturismo negli ultimi anni voi sapete ormai ogni anno si si pubblica un rapporto ISNART-LEGA-Ambiente che dà un po' i numeri di questa domanda che in crescita effettivamente è tumultuosa però cosa vuol dire intervenire per eh per lavorare in questo senso perché questa percorso ciclabile che vi ho mostrato è una via verde di circa sessanta chilometri e e naturalmente non è nulla dal punto di vista cicloturistico voglio dire è una bellissima passeggiata che si fa in meno di un giorno a mezza giornata diciamo quindi eh sviluppare una destinazione cicloturistica significa offrire opportunità ben più ampie noi abbiamo cominciato e poi c'è un altro tema ecco che rappresentato da questa immagine la combinazione diciamo quello che si può chiamare ciclo escursionismo comunque mobilità sostenibile per il turismo che abbiamo scoperto eh devo dire eh proprio con l'esperienza che è un tema importantissimo perché la mobilità è una questione quotidiana e quindi nell'immagine turistica di un territorio eh o fornire servizi di mobilità sostenibile è una cosa che incide sulla vita quotidiana dei turisti e che soprattutto incide anche molto sull'immagine che il territorio da di si stesso ecco noi abbiamo iniziato a lavorare su questo anche perché non vi nascondo che questo tracciato ferroviario che era stato lasciato libero diciamo per tanti anni prima che si aprisse questo cantiere di cui parlavo in molte località era diventato un ottimo parcheggio per chi voleva andare al mare quindi quando si è aperto il cantiere è scoppiata una crisi eh con gli esercenti perché sono diminuiti di colpo i costi macchina e noi che stiamo iniziando a lavorare ci siamo candidati a lavorare per avviare dei servizi sostitutivi a quelli dell'uso della macchina per andare al mare e quindi abbiamo lavorato su una su una gamma di servizi questi sono per esempio i portabici sugli autobus perché da noi tutti i centri abitati sono un po' in collina per cui per tornare indietro dal mare ad andare si va facile ma tornare su diciamo c'è qualche problema per le bici muscolari poi abbiamo attivato dei servizi che chiamiamo bike station cioè se vai in stazione se vai al mare con il treno in stazione trovi delle biciclette a un prezzo politico che sono circa cinque euro al giorno e le puoi prendere per tutta la giornata e quindi puoi lasciare la macchina a casa e ecco questa mappa che rappresenta la costa quella interessata dalla cosiddetta pista ciclopedonale rappresenta anche i servizi che abbiamo attivato quindi abbiamo fatto una cosa banale che però da noi banale non era cioè quella di pubblicare tutti gli orari dei mezzi pubblici di questo territorio che praticamente un'intera provincia dove operano otto diverse autoline e non avevano mai messo gli orari insieme degli autobus perché sapete gli autobus sono pensati per il pendolarismo non per il turismo e quindi invece rendere queste linee fruibili effettivamente turisti richiede un po' di lavoro di comunicazione poi parcheggi di stand di scambio il bike bus tutte queste cose questa cosa ha avuto subito un grande successo però il nostro vero obiettivo era quello di collegare a questa costa balneare turistica e con questa nuova infrastruttura l'entroterra dove ci sono anche le cose più interessanti da vedere sia dal punto di vista artistico che naturale che è no gastronomico cioè tutto il territorio rurale per fare questo abbiamo iniziato a lavorare su un progetto di rete ciclabile e con uno studio di fattibilità come dicevi all'inizio cristiano finanziato a regia diretta abbiamo speso quasi venticinquemila euro abbiamo fatto un lavoro di scouting e di scouting partecipativo per identificare una serie di percorsi che rendessero ciclabile tutto il territorio che fa parte delle colline dell'immediato entroterra rispetto alla costa utilizzando un concetto che è quello di ciclabile naturale cioè strade a bassa densità di traffico con un fondo magari a volte anche non asfaltato e quindi molto amato da chi fa ciclo escursionismo anche in modo semplice diciamo e così è nata questa rete ciclabile dei trabocchi quasi 300 chilometri di percorsi che consentono dalla costa di raggiungere tutti i luoghi più interessanti all'entroterra e che sono stati ecco qua lo vedete rappresentata vedete fatta di una via collinare parallela alla via costiera che è quella azzurra questa via verde parallela e tante bretelle che le collegano in modo tale da formare tanti possibili anelli come vedete questo è un esempio di uno dei cartelli che abbiamo messo e c'è una fortissima c'è un sistema di orientamento che utilizza sia il digitale che la segnaletica tradizionale e vedete in fondo la mappa ci sono due qr code uno consente di scaricare i tracciati noi utilizziamo una piattaforma che si chiama comut però si possono utilizzare anche i tracciati diciamo normali e sia le informazioni turistiche tipo narrativo e fotografico e la caratteristica avrete visto che c'è sempre un marchio metamer ecco questi sono i cartelli come li abbiamo realizzati perché la segnaletica di questa rete ciclabile c'è stata finanziata da uno sponsor che un'azienda che si occupa di energia e interamente tutta la realizzazione del sistema di orientamento su strada è stato realizzato forse abbiamo perso carlo ecco è andato via un attimo quindi siamo rimasti alla sponsorizzazione fatta dalla dall'azienda ecco questo è un esempio di come è fatta la segnaletica che è fatta di questi cartelli un po' rosa a giro d'italia c'è un marchio che si chiama rete ciclabile dei trabocchi ci sono sempre qr code per poter trasformare il proprio telefonino in un navigatore audio video e poi ci sono questi sticker che sono degli adesivi messi sui pali oppure inchiodati sui sulle staccionate di legno che consentono di rassicurare perché di cartelli non ne abbiamo messi moltissimi sia per il costo ma anche per il fatto che in fondo c'è un inquinamento paesaggistico e con tutti questi cartelli quindi li mettiamo solo nei punti essenziali poi ci sono gli sticker lungo il percorso ci sono le tracce digitali e le descrizioni ecco questo qui è un esempio del sito dedicato che si chiama rete ciclabile dei trabocchi e qui introduciamo il secondo argomento cioè la cosa l'altra sfida che noi abbiamo promosso nel nostro territorio è quella di costituire questo ecosistema digitale per il turismo l'ecosistema digitale per il turismo è un'infrastruttura digitale che consente diciamo due servizi da un lato poter realizzare dei siti web in modo molto facile ed è anche economico perché bisogna utilizzare soltanto contenuti testuali e foto mentre invece tutta l'infrastruttura è disponibile è il secondo servizio per quello più interessante quello di condividere i contenuti di tutti i siti di ecco questo è il sito destinazione costa i trabocchi prima e questo è un esempio di pagina cioè una parte da cui si può accedere per esempio qua siamo nel settore natura e questo è un esempio di articolo che si può pubblicare sul sulle cose visto invece l'esempio di percorso questa sezione 20 ma la cosa più interessante ecco come vi dicevo è che con questo ecosistema digitale si possono fare tanti siti web e attualmente noi l'abbiamo lanciato nell'autunno del duemila e ventuno quindi da meno di un anno e abbiamo già quattordici siti web pubblicati in questo ecosistema praticamente noi offriamo a delle realtà che sono di tipo geografico cioè piccole valli piccoli territori o di tipo tematico la possibilità di sviluppare il proprio sito web in rete e loro costituiscono una redazione che gestisce le informazioni di quel sito tutti questi siti condividono le informazioni fra loro sono anche come vedevate prima nell'immagine molto responsive per il telefonino e quindi costituiscono un vero e proprio ecosistema su cui noi stiamo continuando a lavorare naturalmente la quantità di informazioni per tutto il territorio è migliorata in un modo esponenziale anche se stiamo cominciando adesso da vedere gli analytics perché ripeto un'esperienza molto recente e da settembre ottobre 2021 oggi siamo stati un po in versioni prototipali cioè in sperimentazione naturalmente tutte queste attività nonché la costa di trabocchi che c'è un suo diciamo charme naturale hanno attirato questo è solo un esempio la rivista cicloturismo che ha pubblicato un estratto intero di 16 pagine dedicato al nostro territorio ma abbiamo avuto forse fino ad oggi e continuiamo a richiedere richiede a giornalisti che vogliono venire noi offriamo un servizio di accoglienza diciamo nel senso che li ospitiamo però non rimuneriamo naturalmente l'attività e questa è anche una cosa che sta dando moltissima visibilità al territorio adesso queste due cose insieme la ciclabilità e l'uso il digitale rappresentano un po la scommessa e anche una specie di catalizzatore perché queste le redazioni dei vari siti adesso cominciano a interagire fra di loro a costruire prodotti stiamo lavorando per esempio un web magazine stagionale per offrire tutte le esperienze insieme ci sono tutta una serie di operazioni di interazione anche con gli operatori con le guide eccetera che creano una situazione dinamica molto stimolante però essendo un progetto giovanissimo ancora non visto dire bene di numeri di risultati o cose del genere sento ecco molto molto partecipazione molto ottimismo molte effervescenze sul territorio ecco direi che ho finito grazie grazie mille carlo anche tu hai offerto altri spunti su cui già onestamente dibatteremo internamente tra i tecnici del gallo sia quello di offrire a ciascuna destinazione per ciascuna destinazione intendo ciascun comune la giusta visibilità che potrebbe essere per esempio questi siti non ho capito ma magari poi ne parliamo questo ecosistema se sempre realizzato dal gallo cioè la struttura che in qualche modo l'infrastruttura la offriamo noi i siti sono di proprietà di chi li promuove cioè i domini ogni sito per esempio ci sono in questa i 14 siti che vi ho parlato molti siti sono territoriali e ognuno c'è il suo dominio personale ed è anche nell'accordo che noi stabiliamo la responsabilità dei contenuti e di chi promuove il sito però il vantaggio per chi lo promuove che ha questa infrastruttura gratis e quindi senza spendere una lira di wordpress di queste cose qua ma l'altro vantaggio è che se tu metti un evento una domenica nelle terre carracine viene fuori pure nella lista degli eventi della costa di trabocchi insomma tutte le informazioni ci hanno molto più dialogano fra di loro queste infrastrutture ok ok perfetto capito grazie intanto per lo spunto se dovrei andare via già abbiamo anticipato e approfitto per salutarvi e ringraziarvi di nuovo ok